Musica Cari telespettatori benvenuti a questo speciale approfondimento Stasera vi vogliamo raccontare la storia di un campione italiano parolimpico Un uomo che all'età di 17 anni a causa di un incidente ha subito l'amputazione della gamba sinistra Ecco qui è cominciata la sua vera sfida La vita non è finita ma si è solo spostata Queste sono le parole di Andrea De Vincenzi che nonostante tutte le difficoltà ha avuto la forza di lottare e di andare avanti Questa sera Andrea è qua con noi, buonasera Buonasera a tutti Dunque che cosa è successo 25 anni fa? Era una sera di agosto, ero in sella al mio sogno di 17enne, in sella alla mia moto E uno scontro con un veicolo, è successo un evento insomma irreparabile Sono caduto a terra e come dicevi tu c'è stato proprio il bisogno per salvarmi la vita dell'amputazione della gamba È cambiata completamente la mia vita, io avevo degli obiettivi molto importanti, dei sogni che l'evento ha spostato praticamente per sempre Fortunatamente sono riuscito a cambiare pagina molto velocemente perché ci sono eventi che nella nostra vita che non possono essere cambiati E' giusto non vivere nel passato, imparare sempre dalle esperienze che ci accadono e costruirsi una nuova vita Ovviamente gli obiettivi ti permettono di svegliarti ogni mattina con un'energia, una forza che ti portano poi a vivere a pieno la giornata E poi con la costanza raggiungerli Chi ti è stato vicino in quel periodo? Sicuramente la famiglia, la famiglia è stata veramente il perno nell'uscire da questa situazione E gli amici sicuramente Abbiamo costruito forse il mio primo e vero team perché ci siamo sostenuti a vicenda Loro sono stati fortissimi, i miei genitori, a sostenermi in ogni momento E l'aver cercato subito dei nuovi obiettivi completamente diversi da quelli che avevo prima Ci permetteva veramente di credere in un futuro anche senza una gamba Perché già nel 1990 magari si sentiva la crisi Già è difficile per un ragazzo con due gambe trovare lavoro Non avevo il titolo di studio perché ero innamorato del lavoro di mio padre E già ero con lui a lavorare come posatore di pavimenti Perciò è stato veramente un cambio di vita importante E l'avere attorno alle persone giuste ha sicuramente contribuito a uscire In minor tempo possibile da questa difficoltà che comunque a 17 anni ti segna, ti segna senz'altro Poi con il tempo sei riuscito invece a trovare un lavoro? L'ho trovato sì, nel settembre del 91 all'età di 18 anni Sono tornato a scuola con i ragazzi di 14 È stata una sfida che ho accettato Convinto che servisse questo titolo di studio Ho iniziato, l'ho concluso E' stato un primo obiettivo di tanti altri che poi mi hanno permesso di credere E di guardare sempre più in grande E di non fermarmi mai Invece quando hai deciso di avvicinarti allo sport? Lo sport ha fatto parte della mia vita fin dai 5 anni Quando cominciai in palestra a praticare judo E non ho mai smesso praticamente A parte i mesi in cui ero obbligato a stare in ospedale E lo sport ora lo amo più che mai Soprattutto il ciclismo Perché mi ha sempre dato questa sensazione Questa gioia di reset mentale, reset fisico Salute, divertimento E mi ha salvato penso la vita Perché comunque in un incidente dove Io ho sempre fatto anche canottaggio Negli ultimi anni prima dell'incidente Palestra E la notte dell'incidente Ero 81 kg Mi sono svegliato il giorno dopo che ne ero 57 Perciò veramente ho perso tantissimo sangue Si è fermato il cuore per circa 40-50 secondi E il defibrillatore mi ha riportato in vita Se non avesse avuto quella condizione fisica perfetta Anche come a livello cuore, cardiaco eccetera Potrebbe essere stato un epilogo un po' diverso E invece poi quando hai deciso di avvicinarti al ciclismo? Il ciclismo ha iniziato per gioco nel 2007 Ho sempre lavorato e ho studiato per tantissimi anni E un po' l'attività come impiegato in azienda Un po' sedentaria Tornare a casa e studiare chitarra, sassofono E l'alimentazione un po' come capitava Mi ha portato a pesare oltre 100 kg Perciò 30 kg più di adesso E nel 2007 ero proprio cesenatico nella terra di Marco Pantani Tornavo continuamente, sentivo questa fatica Continua sulle mie spalle Proprio un dolore fisico E non è stato perché non mi piacevo grasso È stato proprio perché sentivo io un mio disagio E promise mia moglie che quando torno a casa Inizio uno sport che mi faccia perdere i chili Il più velocemente possibile Sapevo, già seguivo in televisione il ciclismo Sapevo che poteva aiutare molto Ho iniziato, ho acquistato una bici E poi da lì è iniziato veramente un susseguirsi di eventi, di circostanze Che mi ha portato in pochissimi anni Grazie anche allo straordinario supporto della mia famiglia A raggiungere obiettivi molto importanti Ecco, raccontaci di questi obiettivi perché sono davvero tanti Sono davvero tanti in poco tempo E sì, praticamente nel Sempre tornando all'importanza degli obiettivi Cioè perché sto facendo questa cosa Mi ha sempre permesso di concretizzare al 100% le azioni che facevo Cioè generalmente non ho mai iniziato Non ho mai praticato il ciclismo per dire Esco perché ho voglia di uscire Ma esco perché mi devo preparare per questa cosa Mi devo preparare per questo evento Per questo risultato Ho iniziato nel 2008 come partecipante a Gran Fondo Che sono manifestazioni ciclistiche amatori Dove il principale obiettivo è Voglio far parte di un gruppo Cioè faccio parte di questi 1000-2000 ciclisti Che affrontano un percorso Arriva, c'è la festa finale Da lì poi nel 2009 è cambiato completamente tutto Perché ho partecipato a delle gare internazionali Per acquisire punteggio Per poi partecipare alle Paralimpiadi a Londra nel 2012 Nel 2010 come il 2009 Solamente che attraverso un progetto del nostro team Interamente formato da atleti Paralimpici Chiamato Oltre le Barriere Abbiamo voluto lanciare un segnale Inizialmente ai diversamente Aveli Cioè quelle persone che hanno subito un trauma Amputazioni o anche altre lesioni Che per questi eventi si privano un po' la gioia di vivere Quando il mondo fuori non è lì per giudicarci Per quello che abbiamo o quello che non abbiamo Ma dobbiamo essere noi a dire Io voglio godermi la mia vita E voglio cambiare pagina da quello che mi è successo E abbiamo scelto un obiettivo importantissimo Difficilissimo Mai affrontato a livello mondiale da nessun atleta amputato Che è la strada carrozzabile più alta del mondo in India Una strada a 700 km Interamente sterrata Con una pendenza dolcissima Ecco perché è carrozzabile Perché permettere ai veicoli, ai camion e alle macchine Di essere percorsa E sono stati 16 giorni difficili Difficili perché comunque abbiamo voluto sommare La difficoltà nel percorrerla Anche di farlo in autosufficienza Cioè non avere delle jeep a nostro seguito Ma nelle valigie poste a fianco della ruota posteriore Avevamo tutto ciò che serviva per dormire Per coprirci i ricambi I ricambi delle bici Le divisi di ricambio Un po' di cibo Proprio il minimo necessario Infatti durante il raid Quando trovavamo qualche posto dove ci facevano un piattino di riso Vi fermavatele Sì sì abbiamo Quale difficoltà avete incontrato? Abbiamo incontrato Il fatto di Per la prima volta Per quanto mi riguardava A parte il caldo Il freddo Grossi sbalzi Il dover arrivare Dopo 8 o 9 ore di bici Alle 6 Dover trovare un posto dove alloggiare Ammesso che non piovesse Alloggiare si intende Sfilare la tenda dalle borse Piantarle Farsi da mangiare E dormire E poi è stata una grossissima esperienza La mia prima esperienza Dove ho potuto veramente Cominciare a conoscermi molto nel profondo Perché erano Sebbene eravamo in due Non si poteva sempre Rispettare il tempo dell'altro Erano veramente molte ore Anche nella solitudine In queste strade Su un'altitudine media Di 4200 metri Dove eri tu La bici E la strada Posti incantevoli Che meriterebbero veramente Di essere visti Perché ho visto Le montagne Penso di ogni colore Di ogni sfumatura Che possa esistere Su questa terra Ho visto le montagne Di pietra viola Ho visto le montagne Di pietra verde Perciò È stata veramente Un'avventura incredibile Indimenticabile Però la rifaresti? La rifarei Come Dal punto di vista Emozionale Perché comunque Ero prontissimo A livello fisico Perché ha richiesto Veramente Un grosso impegno Ero pronto A livello mentale Nella frontale Perché ci ho lavorato 10 mesi interi Non ero pronto Dal punto di vista Emozionale O meglio Le gare ciclistiche Avevo fatto Fino a quel momento Magari mi davano Quella sensazione Di gioia Di secondi O di minuti Dopo O prima la gara Qui si è trattato Qui si è trattato Veramente di entrare In stati emozionali Molto profondi Prima di tutto Dalla lontananza Dalla mia famiglia Dalla mia moglie E dalle mie figlie Perché comunque Ero diventato padre Per la seconda volta Solamente da 30 giorni Perciò è stato veramente Momenti difficili E in tanti momenti Si faceva veramente Sentire Perché una cosa Che non dimentico mai Durante la preparazione Durante le gare Durante queste settimane Che rimango lontano Dalla mia famiglia È il tempo che Non mi permette Di stare con loro Cioè il tempo che Capisco bene L'importanza Che il tempo Che non sto con loro Non me lo riderà Mai più nessuno Cioè quest'anno Le mie figlie A 10-5 anni L'anno prossimo Ne avranno 11-6 Questi momenti Non me li ridaranno E questo mi porta Anche a Impegnarmi al 100% In tutto ciò che faccio E questo poi permette Di superare difficoltà E raggiungere obiettivi Come l'India La Parigi-Brest Veramente importante Immagino che tua moglie Sia la prima Che ti supporta In tutte queste iniziative Esperienze Sì Qui in India Si pian pianino Si sta abituando Perché come dico Tante volte Un conto è quando Una donna Sposa un professionista E è un attimino Preparata A quello che Va incontro Qui è entrata In un secondo tempo Cioè la nostra vita È cambiata In base a queste mie scelte In un secondo tempo E l'India Sicuramente Ha pesato molto Ha innanzitutto Appoggiato Un mio fortissimo Desiderio E più di una volta Mi ha detto Tu eri partito Prima Alcuni mesi prima Nell'India Perché avevo questo Forte desiderio Dentro di me Di riuscire In questa In questa impresa Adesso non dico Che si sta Abituando Però forse Grazie Allo straordinario Amore Che ha nei miei confronti Mi supporta Nelle mie scelte Che man mano Si stanno Sviluppando Nello sport E non solo In quale altre avventure Ti sei cimentato Mi sono A livello sportivo Si A livello sportivo Nel 2011 All'inizio del 2011 È arrivato Mi sono Cimentato Nel paratriathlon C'è un'attività Nuovissima Per quanto riguarda L'Italia Che è una Una specialità Che raggruppa Tre sport Il nuoto E il bici E la corsa La difficoltà Qual è stata Io arrivando dal ciclismo Mi sono trovato subito Bene Il nuoto L'ho sempre praticato A livello matoriale Si è trattato Di affinare La tecnica Per impiegare Il meno tempo possibile Per coprire I 750 metri La difficoltà È stata nella corsa Perché comunque Circa 10-12 anni fa Ho dovuto fare La difficile scelta Di Dover abbandonare La protesi Dico di dover Perché mi sono Accorto Di Il portare La protesi Essendo amputato Molto alto Mi Obbligava A fare delle scelte Solamente anche Di distanza Cioè Mi limitava Nella mia voglia Che avevo di vivere E arrivato A un certo punto Mi sono accorto Che o abbandonavo La protesi Utilizzando sempre Le stampelle Per poi Non avere A mio giudizio Più limiti Sulle distanze O continuare A vivere In questa Io la chiamo Gabbia Molte volte Immagino Un cilindro Che si continuava A stringere Finché Ho detto Adesso basta Abbandono la protesi È stata una scelta Difficile Perché ti pone In ogni momento Davanti alle altri Cioè pone La tua disabilità In modo In modo chiaro E Bisogna abituarsi Che Ha gli occhi addosso Perché comunque Chi è amputato Dico purtroppo Perché Si perdono tanto E questo è uno dei messaggi Che mi piace anche lanciare È che O nascondono La propria Disabilità Magari facendo impazzire Gli ortopedici Perché vogliono Camminare perfettamente E che ci può anche stare O addirittura Preferiscono Rimanere Rinchiusi Perché non sopportano Il fatto di Di zopicare Perché non rappresentano La perfezione E Soprattutto Senza Senza Protesi Proprio farsi vedere Tranquillamente Senza Senza Stantelle Io l'ho superato Soprattutto Quando ho visto Fin dai primi giorni Che Mi sono accorto Che i limiti Non esistevano più A livello di distanze Perciò Mi ha veramente aperto Un mondo Mi ha permesso di Andare Andare in bici Perché prima Non sarei mai salito in bici Se non con la protesi E Assieme Ho battuto Anche Ho battuto Altre Altre barriere Perché la mia preoccupazione Di non Una delle mie preoccupazioni Era di non andare in bici Su cosa significava Una volta diventato padre Significava Non potere mai andare in bici Con le proprie figlie Cioè non poterle mai Andare a fare la passeggiata E adesso Sono loro che Ogni tanto mi dicono Papà torniamo a casa Perché di bici Veramente Mi sembra che sia sufficiente Perciò Una barriera Una barriera mentale Ne ha superate Ne ha battute Tante altre E poi è arrivato La Parigi-Brest-Parigi Un'altra A seguito Dell'India È arrivata La Parigi-Brest-Parigi Una manifestazione Che si svolge Appunto a Parigi Ogni 4 anni Che coinvolge 6.000 atleti In genere Di oltre 50 stati Di tutto il mondo È proprio L'Olimpiade Delle Randonee Si svolge Ne 4 anni E sono 1230 km In un tempo dichiarato O di 80 O di 90 ore Io Per indole Non lo so Per obiettivo Per concentrarmi meglio Ho voluto subito Dalla prima volta Partire con le 80 ore Perciò È stato Non dalle 90 Proprio per accettare Un'ulteriore sfida Non per complicarmi Un po' la vita Però per avere Uno stimolo ancora Ancora in più E poi sei riuscito A rimanere Nei tempi dichiarati Sì Sono riuscito A coprirla In 72 ore E 42 minuti Perciò Sono partito La domenica Alle 16 Alle 4 del pomeriggio E sono arrivato Il mercoledì Alle 16 E 42 minuti Perciò Omologando il risultato Che ha regalato Oltre che a me E al mio team Insomma Uno straordinario successo Anche per l'Italia Perché in 120 anni Di storia Non esiste Nessun amputato Che mai si sia presentato Alla partenza Perché tante volte È non tanto l'arrivare Ma il volersi presentare Gli appuntamenti Perché è già Un forte segno Che lanci anche a te stesso Di sfida Poi dopo l'obiettivo Può essere raggiunto Ma già tante volte Presentarsi È tanto Se poi lo raggiungi È veramente La ciglia E tu ce l'hai fatta Io ce l'ho fatta E grazie anche al mio team Perché mi ha insegnato tantissimo La Parigi-Brest Quindi un gioco di squadra In tutto e per tutto Eh sì È proprio L'India Era ancora Da questo punto di vista Non era ancora preparato Come mi ha preparato La Parigi-Brest-Parigi Avevo visto molto L'Andrea che è arrivato Qui non è Andrea che è arrivato Ma l'Andrea che è arrivato È grazie Alle persone che l'hanno seguito Durante la preparazione Durante la mia Sicuramente durante l'anno Nella mia famiglia E anche il team Che mi ha seguito Durante queste 1200 chilometri Che hanno risolto Due o tre momenti Proprio di Sembrano pochi 20 secondi Sulle 72 ore Ma sono quei 20 secondi Che incidono Che sono stati fondamentali Certo Dunque Andrea ti chiedo Cortesemente di spostarti Sì Nell'altra parte dello studio Così ci fai vedere anche Questo veicolo Che ti ha accompagnato Per chilometri e chilometri Va benissimo Eccola qua È un modello Ha delle caratteristiche particolari Questa è una bici Da strada Normalissima Rispetto alle classiche bici Che vediamo In strada tutti i giorni A parte un particolare Ovviamente Manca il pedale Sinistro Perché sarebbe Completamente inutile Dopo del resto È una bici Completamente normale Che utilizzo Nelle competizioni Utilizzavo nelle competizioni Di paratriathlon E in questo momento Nelle competizioni Su strada Quanti chilometri Avrei fatto con lei? Tantissimi Migliaia Sì Sicuramente Nel 2011 Penso di avere Superato il massimo Superato i 15.000 km Di allenamenti Sì E generalmente All'anno sono Sui 10.000 Tantissimi Sono tanti Bene Grazie mille Puoi riavvicinarti qua Accomodati pure Ecco Un altro dei tuoi obiettivi È quello di Incontrare i ragazzi Per raccontare Anche la tua esperienza E di lanciare Anche dei messaggi Certo Tre mesi fa Ho raggiunto Un obiettivo Molto importante Nella mia vita Che ho maturato In questi anni Abbandonare Il lavoro dipendente Per diventare Mental coach Professionista Avendo trovato Nel percorso Di crescita personale Degli ultimi anni La mia mission Che è quella Proprio di Aiutare Le persone A credere Delle straordinarie risorse Che abbiamo Dentro di noi Molte volte Si pensa sempre Alle cose Che non vanno Soprattutto Alla sera Si arriva a fare Un sunto della giornata Un po' Sconsolati Delle cose Che non sono andate Quando ci sono passate A fianco Momenti Abbiamo vissuto Momenti Veramente Indimenticabili Lo scopo È proprio Di portare Le risorse Che utilizziamo In questi momenti Le risorse Che utilizziamo Nelle cose Che facciamo meglio Che può essere Nello studio Con la famiglia Nei propri hobby Portarle anche In quegli ambiti Dove ci sentiamo Un po' Svantaggiati Ci sentiamo Un po' Diversi Sembra che ci manchi qualcosa E non ci applichiamo Il mental coach Fa anche questo E da qui È nato Progetto 22 Assieme ad altri Mental coach Genitori Allenatori Che ci accomuna La passione Per i giovani Cioè Aiutare Soprattutto i giovani A credere Nelle loro Straordinarie risorse Risorse Che non sono Non si acquistano Le hanno già Dentro di loro Si tratta proprio Di guidarli In un percorso Per riscoprirle E portarle Nella vita Che hanno La straordinaria Fortuna Di avere l'età Anche dalla loro parte E di credere Che nella vita Possono fare Quello Quello che vogliono Ecco Grazie anche Ad una collaborazione Ed un'amicizia Con l'avvocato Donatella Catenacci Ha incontrato anche Degli studenti Qua a Fano Come nel liceo Classico Linguistico Pedagogico Ecco Come hai trovato Questi ragazzi Li vedi attenti Concentrati E poi quali sono Le domande Che ti pongono Li ho visti Molto concentrati Rimangono molto Colpiti Dalla Dalla mia storia Perciò Perciò sono sempre Molto concentrati Ad alcuni Dico sempre Entrano subito I concetti Altri devono decantare Un attimino Ma li vedi Molto Recettivi E anche E anche questo Che affrontando Vari incontri Ci incoraggia Sempre di più Noi coach Nell'affrontare Questo percorso Perché Fin dall'inizio Siamo rimasti Siamo sempre stati Convinti Che I ragazzi Sono È un'eredità Che noi adulti Dobbiamo Dobbiamo Aiutare E sostenere E sopportare Nel miglior modo possibile Perché sono Sono il futuro Insomma Anche a maggio Ci sarà un incontro All'istituto Donati Di Fossombrone Sì Un incontro Una festa dello sport Che lega lo sport E la disabilità Sarò Sarò Un po' Un po' L'ospite Dimostrando Che lo sport Veramente Soprattutto Il giorno d'oggi Non ha più limiti Chi ha disabilità O chi anche Vuole affrontare lo sport Non esistono più Sport che non si possano affrontare Oramai Basta volere Basta volere Scendere in campo Che Le città Offrano comunque Ogni Ogni possibilità Di scelta Certo Io prima di concludere Questo appuntamento Vorrei chiederti Di Mandare un messaggio A tutti coloro Che in questo momento Come te Hanno subito O adesso in passato L'amputazione di un arto O anche altre persone Che possono avere Un problema diverso Che comunque Li crea un disagio O fisico O psicologico Ecco Che cosa ti senti Di dire loro Mi sento di dire Di credere Di credere In se stessi Soprattutto Soprattutto E non è Non è La diversità Ma anche Un semplice evento Che è accaduto Momentaneamente Che cambierà per sempre La loro vita Bisogna imparare Dal passato Senz'altro Non bisogna Rimanere Rinchiusi Nel passato E imparare Da queste esperienze Che sono Esperienze di vita Maestre di vita Grazie Andrea De Vincenzi Per essere stato Nostro ospite Grazie per questo messaggio Che stai portando A tutti noi Grazie a tutti voi Grazie ai nostri Teri spettatori Per averci seguito E arrivederci A domani Grazie a tutti